Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento meteo. Nel corso della giornata di venerdì l'alta pressione tornerà ad abbracciare proprio tutta Italia. Dunque il tempo sarà bello e avremo tanto sole da nord a sud. Sole che ovviamente farà aumentare le temperature massime, infatti saranno gradevoli un po' dappertutto. Ad esempio queste sono alcune delle temperature massime previste per alcune delle principali località e come vedete andremo dai 19 gradi di Palermo ai 22 gradi di Firenze. Ma adesso diamo uno sguardo dettagliato alla previsione. Come potete vedere il sole sarà protagonista su tutte le nostre regioni. Avremo un po' di nuvolosità maggiore sulle regioni del medio basso versante adriatico e anche l'estremo sud. Qualche debole pioggia sarà possibile ma soltanto sulla Calabria e tra l'altro attenzione perché nelle prime ore del mattino avremo a che fare con qualche banco di nebbia sulle zone dell'alto versante adriatico e anche sulla Toscana. Intanto vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli in base alla località potete o consultare il nostro sito www.meteo.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita.